Solo 20 giorni per riprendere una strada di crescita, un trend rialzista, solo 20 giorni per dimostrare i muscoli, solo 20 giorni per provare a mantenere questi prezzi. Bene, ciao a tutti, bentornati. In questo nuovo video Bitcoin gli restano 20 giorni di tempo per recuperare alcuni livelli di prezzo ma soprattutto per non rompere al ribasso dei livelli di supporto che sarebbero disastrosi se breccati. In questo video andiamo a fare l'analisi di tutta quella che è l'attuale situazione dei mercati delle crypto, andiamo a mettere i puntini sulle i su quello che è la struttura del ciclo mensile di Bitcoin che ha 20 giorni di tempo per dirci che cosa vuole fare ragazzi. Ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale se non lo fate, siete dei brufaldini e noi ragazzi ci vediamo subito sui grafici perché oggi ho tantissime cose da dirvi tra le quali ce n'è una che guarderemo dopo la nostra consueta carrellata di analisi su Bitcoin, Ethereum, Nasdaq che stiamo guardando e anche Crypto DeFi. Andremo a parlare di Phantom, della questione di Andrè Croglie che ha abbandonato la questione DeFi, un altro duro colpo per la DeFi ma soprattutto anche significativo da alcuni punti di vista e Phantom è, ve lo dico già chiaramente, sul punto di non ritorno un livello solo per Phantom ragazzi, dopodiché gira il ciclo annuale al ribasso e non la vedo bene per niente. Bene intanto sono di nuovo con il mio Bitcoin Gold in mano, mi rivedete anche in Pace Off davanti a voi ragazzi, allora vi metto subito quello che è il grafico legato a tutta la nostra struttura, il nostro Workspace. Facciamo un'altra cosa, vi faccio vedere prima la piattaforma Atani con l'operazione long che ho fatto oggi perché direttamente voglio indicarvi già quello che avevo fatto perché stiamo seguendo una strategia con la mia Academy, con un'operazione molto rischiosa di un buy the tip che è avvenuta proprio questa notte ragazzi. Io l'ho fatta attraverso la piattaforma di Atani, Atani vi consente di poter operare su diversi exchange da un'unica piattaforma, quindi una piattaforma per controllarle tutte, è più semplice agire perché io entro solo su questa piattaforma, mi loggo, ho i miei exchange dove voglio operare, vado su quell'exchange e faccio il mio ordine. Così ho fatto per esempio sull'exchange di Bitfinex è quello che vedete in questo momento, la freccettina, non so se si vede ragazzi se riuscite a visualizzare, c'è una freccettina verdina qui per il mio ingresso long su Bitcoin. Sulla piattaforma Atani vi lascio il link in descrizione ragazzi, è gratuita Atani quindi la scaricate e la provate, vedete se mi piace o non vi piace, ci stanno un botto di exchange, vi lascio il link in descrizione, mi ha dato una mano con i ref ma è gratuita per voi, quindi diciamo un super win-win ma soprattutto ragazzi una cosa, questa operazione è un long di trading, trading significa che non è un'operazione in posizione, non seguite queste posizioni se non sapete quello che state facendo. Fa parte di una strategia che eseguiamo in Academy, una strategia per il mese di marzo ed è ve l'ho mostrata perché proprio su questa andiamo a collegarci quando andiamo a fare quello che è il nostro consueto aggiornamento sulla questione ciclica ragazzi. Benissimo, allora Atani vi lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda invece la questione ciclica partiamo proprio dall'idea del fatto che questo ciclo mensile che è iniziato ormai il 24 di febbraio, quindi ha una nuova struttura ciclica, deve mostrare i muscoli nei prossimi giorni. E' proprio per questo che siamo andati a procedere con un long su bitcoin perché se le cose girano un po' a favore ragazzi noi siamo sul cavallo. Ovviamente è stra protetto, non protetto, è stra protetto questo long, è solo un'operazione di trading però è fatta sulla base della teoria ciclica e anche di alcuni avvenimenti che teniamo sotto controllo in Academy legati proprio alla struttura della volatilità del mercato, quindi analisi di natura quantitativa ragazzi. Allora, cosa ci dice questa operazione? Forse nell'ultimo video vi avevo anche accennato che vi avrei mostrato un po' questa tipologia di operatività. Allora, cosa ci dice? Ci dice che questo mensile che è iniziato qua ragazzi ha pochissimo tempo per tornare a fare una cosa del genere. Sono sincero ragazzi, da questo ribasso fatto così che il mercato riesca a fare un super pump di questo tipo la vedo dura. Secondo me può farlo solo su un uso straordinario. Questo significa che finisce la guerra, c'è un adoption di Bitcoin come moneta nazionale, non so, della Russia, non so, ok? Al posto del rublo? Non lo so ragazzi. Devono esserci delle news straordinarie affinché si possa verificare una cosa del genere. E però nelle corte del mercato, già ve lo dico, questi 20 giorni sono nelle corte del mercato, la possibilità che faccia una cosa del genere praticamente scioccando tutti quanti. Quindi Bitcoin può in effetti fare questa cosa shock e ci sono dei dati di natura quantitativa che ho sempre calcolato. Però ha una percentuale, una probabilità molto bassa ragazzi che avvengono cose del genere. Però come tutte le cose che hanno una percentuale molto bassa, se avvengono danno buoni 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 profitti. Quindi se insomma si conoscono alcune tecniche di trading come proteggersi eccetera su alcune posizioni, ecco il motivo del long perché in questo caso se le questioni non vanno si perde pochissimo, se le questioni vanno bene si entra in quella outlier statistica o quella probabilità che è bassa, però c'è e c'è sotto tanti punti di vista, non sotto un punto di vista, a quel punto i guadagni sono veramente lauditi, lauditi. Magari si verifica e quindi ecco la motivazione del long che vi ho mostrato prima ragazzi, va bene? Ok detto questo andiamo avanti ragazzi e andiamo ad analizzare la struttura ciclica del mensile di Bitcoin e andiamo a vedere che in sostanza questo mensile iniziato il 24 ha completato 11 giorni. Teoricamente queste tipologie di cicli i ragazzi hanno almeno 30 giorni, quindi va in chiusura appunto il 26-27 di marzo. Ecco il motivo per il quale abbiamo 20 giorni perché il mercato ci dia dei segnali ed è importante, decisamente importante, che Bitcoin riesca a riportarsi quantomeno in zona 42. Zona 42 è un primo target di questa strategia ragazzi, poi il secondo è al breakout di questo livello. A proposito di questo livello ho preparato per voi un super mega straordinario, proprio diciamo di parare, video che andremo a spiegare perché la prossima lezione del videocorso che stiamo facendo, ragazzi anzi vi lascio il link in descrizione, andatevi a vedere la prima puntata che ha avuto un grande successo sul videocorso dove descrivevo un ingresso poi andato a profitto enorme su Luna e questo sarà invece l'altro episodio, vi sto preparando proprio un video che spiega questo atteggiamento di Bitcoin, quindi lo vedremo tra un po'. 42, il primo livello di target è importante se ci arriva nei prossimi giorni, quindi anche una situazione di attesa da qui per esempio intorno al 15 di marzo andrebbe bene, se invece, ve lo ricordo e ve lo ribadisco e ve lo ridico, se invece si va a breccare il minimo di 34.000 dollari, la questione si mette malissimo perché sotto i 34.000 dollari, sotto il minimo del 24 di febbraio, questo ciclo mensile diventa un ciclo al ribasso, se avverrà un ciclo mensile al ribasso significa che poi Bitcoin scende fino alla fine del ciclo mensile, ragazzi, quindi la questione si mette male. se addirittura brecca questo livello di 34.000 dollari prima della fine del mese, perché se lo va a breccare alla fine del mese, può essere quella la chiusura, un leggero ribasso, ne parliamo di questa cosa poi nei prossimi video e va bene. Se invece lo brecca tra poco, poi scende a 10 giorni, ragazzi, e quindi ciao ciao, sogni di gloria per una serie di motivi, e quindi ragazzi questa è una cosa molto importante da andare a visualizzare, questi livelli sono molto importanti, 42 Bitcoin deve tornare lì. Da punto di vista di analisi tecnica siamo sempre all'interno di questa barra di congestione, quindi no trend, però è anche vero che ragazzi tutto quello che riguarda la questione sugli asset che sono anti-inflazione è questa qui, ragazzi, allora qui vedete la soia, il grano, il petrolio, il gold, tutte e abnormi le impennate, proprio come quelle che vi avevo fatto vedere insomma tempo fa quando ho fatto il video sulla struttura, sulla guerra, su quello che sta accadendo, ancora adesso il rublo russo pesantemente massacrato dall'attacco finanziario contro la Russia, vedete qua questo rublo e il significato di tutto ciò, e poi la ripercussione sul petrolio e sulla soia e sul grano, che non si fermano più, praticamente il grano sta arrivando quasi al suo livello di massimo storico possibile, è una cosa grave ragazzi perché impatta pesantemente sul livello inflattivo, quindi tutti gli asset che sono contro l'inflazione, dovremmo ottenerli strettamente monitorati, in ogni caso quello che stiamo assistendo in questi precisi giorni è molto molto grave, faremo anche un video extra criptovalute, riprendendo quella che è la macroanalisi ragazzi dei mercati classici, perché al di là delle cripto, che le cripto sono comunque una costola dei mercati classici al momento, non sono sufficientemente grandi per andare a competere con questi mercati giganteschi, pesanti ripercussioni come quelli belliche che si stanno verificando, e soprattutto ancora non abbiamo visto una reazione importante della Russia, su queste che sono state le ripercussioni sul rublo ragazzi, perché un rublo a meno 55% è molto significativo, praticamente stanno azzerando il valore del rublo sul dollaro, è una cosa molto grave, e sicuramente ci saranno ripercussioni da questo punto di vista, che dovremmo stare a vedere, dovremmo attenzionare. Allora, Bitcoin non sembra vicino a quelli che sono gli A70 in inflazione, mentre invece petrolio, soia, grano, gold, stanno salendo ai massimi storici, Bitcoin no, è lontano, quindi Bitcoin ancora una volta, antifrattivo sì, antifrattivo no, e questo il problema sempre da sciogliere, sembrerebbe che in questo momento Bitcoin sia ancora più legato all'andamento di un indice come Nasdaq 100, quindi delle borse, quindi più legato alla questione growth che difensivo, quindi non sembra essere tanto difensivo. Attenzione però, perché può essere anche che stia, diciamo, incamerando un po' l'attesa, ma ragazzi, al momento questo ci dicono i dati, quindi non possiamo andare contro quella che è la struttura dei dati. Andiamo a vedere Nasdaq, perché appunto questa correlazione Bitcoin-Nasdaq continua ad esserci e va considerata Nasdaq, ragazzi, il minimo del ciclo annuale l'ha breccato, ve l'ho detto più di un mese fa, che cos'era? Quando l'ha breccato era inizio 2022, questo significa che non c'è storia per il mercato americano, in teoria si scende fino alla fine del ciclo annuale, a meno di cose strane, a meno di modifiche e tutto il resto, poi ovviamente magari non scenderà così, ma scenderà facendo un su e giù, però difficile che vada a riprendere un trend rialzista prima della chiusura di questa struttura ciclica annuale, oppure stiamo sbagliando dei conteggi strani, insomma, e tutto il resto. Questo ce la dice lunga, ragazzi, guardate il trend, quando vi ho spiegato più volte, trend is your friend, sotto questa media mobile, Nasdaq 100 non ha mai più invertito, noi abbiamo indicato la media mobile a 26 settimane, quindi quella del semestrale, ve l'ho indicata come spartiacque tra rialzo e ribasso, da qui in poi, Nasdaq 100 giù, e non c'è niente da fare, e così sta continuando questa sua fase. Deve però chiudere il ciclo semestrale a breve, che non sappiamo solo chiude queste settimane, insomma, intorno appunto alla fine del mese, è intorno a 180 giorni di ciclo, circa, a fine del mese di marzo, ed è qui che si gioca un po' la battaglia, ragazzi, proprio perché solitamente i semestrali corti vanno bene per dei mercati che scendono, però, insomma, può tirarla ancora, fino alla fine del mese di marzo. Se fa questa cosa, secondo me Bitcoin, l'unico obiettivo, l'unico segnale di forza, è quello di sopravvivere a questo mese di marzo, ne parliamo, ragazzi, perché poi magari dopo marzo ce la possiamo fare, però bisogna che si sopravviva, perché è difficile che Bitcoin riesca a reggere un Nasdaq che continua a scendere, o peggio ancora le azioni della Russia, eccetera. Primo livello di supporto, 12.06, questa zona qui, ve la disegno, ok, eccolo qui, questa zona qui, questo è un livello importantissimo, ragazzi, da tenere a mente, per quanto riguarda la struttura macroeconomica di Nasdaq 100. Ethereum, Ethereum, per quanto riguarda la sua struttura, è debole, è debole perché risente un po', della questione legata alla DeFi, che è un po' sta risentendo, ragazzi, inutile negarlo, di tutte queste situazioni, che sono un pochettino, poco chiare, anche sulla DeFi, e soprattutto, lasciano un po' il tempo che trovano, ragazzi, perché, perché scoprono i vasi di Pandora, no, quindi, da qui, che c'era una fomo spaventosa, su progetti, che magari sono anche fatti molto bene, però poi, la creazione di un'economia sottostante, la creazione, di, di quello che sono ecosistemi, che possono resistere nel tempo, è ben cosa, differente, vediamo anche Luna, come sta resistendo, ma è un ecosistema molto forte, ragazzi, quindi, su questo bisognerebbe molto riflettere, e andare a ragionare molto, su queste cose qui, la questione Phantom, è stata molto delicata, e da Cryptovaluta, per esempio, che era vista molto bene, che poteva dare grandi segnali, con un break, su un determinato livello, addirittura, si è proprio riversata, in maniera negativa, su un punto di non ritorno, la vediamo tra 6 secondi, insomma, quasi 5 secondi, facciamo così, e insomma, questo ve la dice lunga, sulla questione legata, al settore DeFi, il settore DeFi, che resta, secondo me, uno dei cavalli di battaglia, dell'Ecrypto, per i prossimi anni, e per i prossimi mesi, ma prima, dobbiamo passare, questa fase, e non ci piove ragazzi, bisogna passare, appunto, questa fase qui, allora, andiamo a vedere ETH, ETH, guardiamolo un po', nella questione, della struttura, ciclica, del ciclo semestrale, quindi, teoricamente, 190 giorni per ETH, sono sufficienti, per chiudere un ciclo semestrale, sembrerebbe di no, anche qui, c'è la questione legata, verso fine mese ragazzi, certo, i 250 sono un po', tantini, per una criptovaluta, che sta, in sostanza, disegnando, un trend, a ribasso, abbastanza profondo, fermo restando, che Ethereum, non modifica, in nessun modo, la struttura, di Bitcoin, vediamo, anche come, non è mai salito, sopra, questo livello di media, sul ciclo settimanale, non ha mai invertito il trend, in sostanza, da questa candela qui, rossissima, insomma, dopo aver breccato, questo livello di media, questo che era a gennaio, da gennaio, è in trend, ribassista, non ha mai invertito, quindi qui, c'è poco da fare, insomma, ha tentato questa fase, di inversione qui, ma non c'è niente da fare, c'è però, a livello, tecnico, un, triangolone, fatto così, solitamente, questi tipi di segnali, in versione pesce, diciamo così, quindi a punta di pesce, sono segnali, di continuazione del trend, più che di inversione, segnali di inversione, sulle criptovalute, non spesso, sono disegnati, così ve lo dico, quindi, in teoria, il break, di questo livello, anche per Ethereum, sarebbe fortemente negativo, quindi se Ethereum, dovesse breccare, i 2400, scende ragazzi, probabilmente, a un nuovo minimo, entro la fine, del mese, di marzo, vedete com'è delicata, la questione, quindi da una parte, abbiamo, soltanto pochi giorni, per assistere, a un boom, di delle cripto, Bitcoin, abbiamo visto, Ethereum, abbiamo visto, di riportarsi in area, 4000, scusate, 42000, per quanto riguarda Bitcoin, mentre per quanto riguarda Ethereum, almeno, in area, 2008, circa, in modo tale da, alleggerire, la struttura ciclica, di questo mensile, e poi magari fare una cosa del genere, ma almeno, intorno a 2750, 28, questo spartiacco, e 27, qua dentro ragazzi, ci deve tornare, prima, della chiusura, del ciclo, mensile, che sarà a fine marzo, quindi, se non ci torna, ed è già debole così, dobbiamo stare, con gli occhi, aperti, in questo modo, fate attenzione, alle vostre operazioni, in holding, ve lo sto dicendo, da sei mesi ragazzi, non mi venite poi a dire, ah ma no, è perché avete ascoltato, notizie a cavolo di cane, che girano sempre, ve lo sto dicendo da novembre, ve lo sto dicendo da novembre, questa cosa, trendy, your friend ragazzi, il lungo periodo, è fantasticissimo, ma poi, quando siete a meno 97%, il lungo periodo diventa, ma che cos'era questo, ok, l'importante è capire, quello che si fa, sempre e comunque ragazzi, proteggetevi, è importante, studiare, comprendere, il punto limite, di ognuno di noi, dove possiamo arrivare, dove non possiamo arrivare, non credete, al fandonie, va bene, ok ragazzi, andiamo a vedere la questione, è il fai, e il phantom, al punto di non ritorno, perché, phantom, non ha, ha tradito, diciamo, anche quelle, non hanno le mie aspettative, ma a causa appunto, di questa questione, qui ragazzi, quindi, Andre Croglie, esce fuori, dalla questione, programmazione, si ritira, non si sa che fa, non si sa cosa non fa, tutti i suoi progetti, cadono a picco, nella giornata, nelle scorse giornate, adesso non ricordo, del 5 o il 6, e niente, insomma, 6 marzo, vedete ragazzi, questi progetti collegati, quindi, da ierna, a Kieper, che erano quelli, che anche io, tenevo sotto stretta osservazione, e vanno giù, pesantemente, ma quella, la top, diciamo, che ne risente più di tutti, è proprio Phantom, andiamo a vederla, che cosa ha combinato, e soprattutto, vi faccio vedere come Phantom, è nel punto, di no, ritorno, l'attesa era, per una fase di alzista, di Phantom, se avesse, se fosse riuscita, a breccare, questo livello, questo livello medio, ragazzi, invece il contrario, perché, non è mai entrata, ha fatto, praticamente, questo pump, poi nei giorni successivi, reversal immediato, e in pratica, con un, eh, reversal immediato, mh, fatto così, ha subito, eh, ripreso, la via del ribasso, ok ragazzi, quindi, la questione, è, questo reversal, che gli fa riprendere, totalmente, la sua struttura ribasista, l'ha portato, quindi, porta Phantom, al punto di non ritorno, che è questo livello, qui, cioè, il, eh, un dollaro e venti, cioè, il minimo, ragazzi, del ciclo, eh, semestrale in questione, quindi, la parte ternaria, di Phantom, perché Phantom, ragazzi, a differenza di Bitcoin, sta, eh, strutturando, una, eh, ciclo ternario, annuale, ternario, fatto così, anzi, facciamo una cosa, ve lo disegno qui sotto, così, lo vedete, a tre piramidi, uno, due, e tre, questo qui, quindi, se dovesse breccare, il minimo, in questione, di partenza, della sua, eh, struttura, eh, semestrale, eh, ternaria, è un segnale fortemente negativo, ora, questo minimo, è intorno, ve lo dico, ad aria, eh, uno e due, quindi, se va a breccarci, l'aria, uno e due, eh, e, poi scende, ragazzi, perché, perché, in pratica, deve andare, a chiudere, questo ciclo, semestrale, ternario, e, lo chiamiamo così, ragazzi, non riesco a trovare, la terminologia, più semplice, per sfiararmi, questa cosa, va bene, ok, ok, e non la riesco, proprio, a trovare, perché, sempre cose complicate, va bene, ragazzi, allora, questa struttura, un semestrale, corto, che dura, quattro mesi, circa, ed è, una struttura, ternaria, se mi brecca, a questo punto, poi fa un rimbalzino, ma continuo, a chiuderlo, a ribasso, perché significa, che, questo trend, lo gira a ribasso, tra le altre cose, questo particolare livello, non è soltanto, un livello, ciclico, stra importante, ma è anche, un livello, di barra, di congestione, che, Phantom, non brecca, in pratica, da ottobre, quindi, dovesse andare, a non sostenere, questo livello, di 1.2, e la cosa, si mette malissimo, perché fa, una barra di congestione, breccata a ribasso, e quindi, è un'inversione, di medio lungo periodo, questo potrebbe, indicare, una fase, ribassista, fino all'intera, chiusura, del ciclo annuale, di Phantom, che, significherebbe, a quel punto, un ribasso qui, poi magari, una fase di ripresa, e poi, una struttura, che non ce la fa, e poi, va a chiudere, l'annuale, insieme a tutti quanti, perché deve chiudere, anche bitcoin, eccetera, ma qui parliamo, di percentuali, abnormi ragazzi, di discesa, perché, è un livello tecnico, stra importante, per Phantom, quindi, se da qui, dovesse iniziare, ad andare giù, poi, nulla vieta, che si va, si va sotto, di ho preso, quello sbagliato, si va sotto, di tantissimi, punti percentuali, e, proprio tanti ragazzi, ok, possiamo arrivare, 70%, al di sotto, e, comunque, saremo sempre, in una fase, di ciclo, annuale, al rialzo, perché, anche se fa, una cosa del genere, in ogni caso, chiude, un ciclo, con un minimo, e un minimo, e superiore, quindi, in ogni caso, resta un annuale, rialzista ragazzi, ma abbiamo, poi, un meno 70, quindi, addirittura, una cosa del genere, se per caso, veste fare, un annuale, ribassista, deve scendere, sotto, gli 0,16, ma, quant'è, aspettate, fatemelo calcolare, non so neanche, quant'è, una cosa del genere, sarebbe un disastro, perché, scendiamo, a meno, 86%, va bene, phantom, livello chiave, 1,2 ragazzi, mi raccomando, fate attenzione, a queste cose, io sono ancora positivo, ancora non l'ha rotto, può essere, che recupera, la questione, che l'ha mandato, così, in basso, e delicata, ed è dovuta, alla questione, di André Crogne, quindi, la questione, DeFi in generale, il settore DeFi in generale, sta reggendo, molto di più, di quello che pensavo, questa fase di ribasso, quindi, non è, una fase, stra pericolosa, però, abbiamo, i prossimi, 20 giorni, che sono, dei click, che si vanno, a innescare, sembra, un grande, tabellone, con delle pedine, che si vanno, a effetto domino, a incatenare, l'una dentro, l'altra, crolla uno, bam 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 bam, crollano tutti, quindi, mi raccomando, ragazzi, fate molta attenzione, a tutte queste questioni, qui, una settimana, 42k, bitcoin, è importante, arrivarci, a prescindere, da quello che succederà dopo, è importantissimo, arriva lì, sono stanco, ciao, ci vediamo, nel prossimo video.